A cinque giornate dalla fine il gruppo Progetti Immobiliare è chiamato a un vero e proprio miracolo sportivo per rimanere nella massima serie della Lega Calcio A8, quella di oggi si può considerare una vera e propria ultima spiaggia di fronte all'Alitalia che dopo due sconfitte consecutive può accorciare su zio Mauro Maccarese e sperare nella salvezza senza passare per i play out, benvenuti all'Atletico 2000, ventiseiesima di Serie A, gruppo Progetti contro all'Italia. Francesco torna su di lui, poi Torri va in verticale da Piras che mette il pallone verso il centro e Manuel Marinelli a pochi passi dalla porta fallisce quella che poteva essere una grande occasione per il vantaggio della squadra di casa. Per gli ospiti sulla sinistra va via velocissimo il numero 11 che mette il pallone verso il centro e colpisce clamorosamente la traversa di Michele. Incredibile chance per l'Alitalia. Ha recuperato il possesso l'Alitalia perdendolo quasi immediatamente. Conclusione della distanza e vantaggio del gruppo Progetti all'improvviso un gran gol di sbraglia. Apre le marcature al ventunesimo di questo primo tempo e dunque gruppo Progetti immobiliare 1 all'Italia a zero. Marinelli in verticale c'è il movimento di Manuel Marinelli. Si era fermata la difesa dell'Alitalia e Marinelli è andato vicinissimo al raddoppio. La chiusura però con Santilli che va a trovare De Michele. Alza la testa il numero 8. Negro non riesce a chiudere. Allora De Francesco col diagonale. Blocca Graziano. Santilli che sta correndo tantissimo e va poi a giocare in verticale con Severini che calcia e il suo diagonale non trova di poco la porta. Destra dove si fa vedere Cristian Marinelli all'uno contro uno con il suo diretto avversario. Alza il polone verso il centro. Piras scarica. Sbraglia libera il mancino che termina di poco sul fondo. Ottima trama offensiva del gruppo Progetti che guadagna anche un calcio d'angolo. Scarica su Balsani che ha la possibilità di controllare e alzare la testa. Balluno contro uno con sbraglia. Poi tocca per De Francesco che allarga ancora il gioco su De Santis. Alza la testa il 6 che mette il traversone. Ottimo per De Michele che non può sbagliare il pareggio dell'Alitalia al 14esimo del secondo tempo. Il gol è di De Michele. Pallone che comunque è buono per Balsani che apre dall'altra parte. Tocco centralmente. Buono per De Michele che calcia. La grande risposta di Graziano. Attenzione al passaggio sbagliato da parte di Balsani. Può favorire. Sbraglia che calcia e va vicinissimo al gol del 2 a 1. Va Severini. Pallone che passa. Graziano ci mette le mani. Poi c'è un contento in aria. Ancora Graziano. Pallone di ritorno. Ripartenza del gruppo Progetti. Pallone all'indietro. La conclusione di pochissimo alta. Ci ha provato ancora. Sbraglia. Scarica su Sbraglia. Che tocca per un compagno. Si chiude l'1-2. Sbraglia. Si allarga. Libera il diagonale. E ha salvato praticamente Valentini. E arriva il triplice fischio. Finisce 1 a 1 tra gruppo Progetti Immobiliare e Alitalia Calcio. Un pareggio che non serve a nessuno. Ci hanno comunque creduto fino alla fine. Entrambe le formazioni. Finisce 1 a 1 all'Atletico 2000.